bella a tutti ragazzi vi avevo giusto due secondi per dirvi che questo video si tratta di un numero fatto di ieri così a caso infatti il nostro oggetto è anche con leite e spero vi possa piacere se è così vi lascia un like e vi lascia il video bella ragazzi grazie a tutti 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 grazie a tutti